Mancano le altezze e non vuoi alzare le soglie? Rinunceresti volentieri al vecchio pavimento ma senza demolire il massetto? La soluzione efficiente e poco invasiva per semplificare la riqualificazione e gestire il comfort in ottica di risparmio energetico, è il pavimento radiante idronico a zero spessore. La fresatura della pavimentazione avviene in poche ore e senza generare detriti da smaltire. Subito dopo è possibile posare la tubatura, l'isolante e la finitura desiderata, ad esempio una resina di pochi millimetri. Per un risparmio annuo fino al 20% basterà affidarsi a SmartComfort 365, la centralina multi-zona per la gestione intelligente dell'impianto. L'ambiente appare rinnovato, il 100% della superficie è disponibile per l'arredamento, il clima è confortevole e uniforme.